Eccoci, siamo collegati. Buonasera a tutti. Io ho proposto questa meditazione stasera per trasformare la paura in amore perché da quello che vedo mi sembra che ci sia bisogno e credo che con il nostro gruppo possiamo fare molto anche e soprattutto per aiutare gli altri. Prima di tutto però ovviamente dobbiamo essere sicuri di aver elaborato bene noi la nostra paura e quindi vi propongo di fare un lavoro prima su di noi e poi ovviamente trasferito sugli altri. Quello che volevo dire come anticipazione è che chiaramente io voglio ricordarvi che la legge di attrazione e tutte le leggi universali che noi studiamo insieme si applicano anche in questo caso. Quindi innanzitutto dove noi mettiamo la nostra attenzione lì stiamo dando forza, stiamo dando energia a quella cosa a cui pensiamo continuamente e quindi favoriamo la creazione e l'aumento di potere di questa cosa. Quindi cosa significa? Che se noi ci agganciamo a questo pensiero collettivo che ormai si è creato di grande paura che viene fomentato in vari modi, chiaramente non facciamo altro che contribuire alla sua crescita e persone che lavorano su se stesse per fare una crescita spirituale necessariamente devono essere un po' dei pionieri nei confronti degli altri, cioè devono aiutare gli altri a vincere queste paure prima di tutto vincendole rispetto a se stessi. Quindi quello che vi voglio dire è che se noi applichiamo la legge di attrazione sappiamo che ciò su cui ci concentriamo si espande. La paura è l'opposto dell'amore. Qui tra la paura e l'amore si applica la legge di polarità. Quindi cosa significa? che si può applicare come abbiamo sempre fatto la famosa regola che quando sentiamo paura dentro di noi ci rendiamo conto è un'emozione negativa. Quindi cosa facciamo? Diciamo noi stessi questa emozione negativa io non la voglio, io non voglio avere paura. Ma nel momento in cui diciamo io non voglio avere paura sappiamo che dobbiamo andare nella direzione opposta, cioè sul lato opposto della polarità e per arrivarci dobbiamo dire che cosa voglio invece? Facendoci la domanda che cosa voglio invece noi ci ritroviamo la risposta amore perché l'opposto della paura è l'amore, non è il coraggio. Allora vi ricordo che se noi guardiamo odio e amore non sono opposti ma sono l'altra faccia della medaglia. Quindi l'odio è l'ombra dell'amore. Quando c'è odio è una versione distorta dell'amore. Quando invece c'è paura siamo proprio sui due lati opposti della polarità e quindi bisogna fare un passaggio importante di cambiamento della polarità. Questo a livello teorico. Ora ovviamente vi ricordo che noi le forme pensiero le creiamo collettivamente, quindi in questo momento c'è già una forma pensiero molto molto potente intorno a noi che è creata dalla collettività. Quindi noi possiamo staccarci, restare individualmente consapevoli di ciò che vogliamo pensare noi, riprenderci la proprietà del nostro pensiero, il nostro potere di decidere a cosa pensiamo e non farci trascinare dentro questa forma pensiero collettiva distruttiva. Nello stesso tempo una volta che ci siamo riappropriati della nostra capacità di pensiero individuale, ovviamente mi auguro positivo e potenziante, a quel punto possiamo in qualche modo collettivamente anche noi stasera insieme agire per attenuare se non trasformare completamente, se fossimo un gruppo numerosissimo si potrebbe anche addirittura trasformare completamente questa forma pensiero che si è creata. Comunque ognuno di noi deve fare il meglio che può e quindi basta fare il nostro meglio, non possiamo pretendere di avere potere sull'umanità o di voler cambiare il mondo. Per cambiare il mondo cominciamo da noi stessi e cominciamo con le piccole cose. Se noi riusciamo a gestire le nostre paure siamo poi in grado di aiutare gli altri a gestirle e questa è la forma più alta di amore che possiamo dare. Quindi io non sto parlando da tecnico, dico solo state lontani se possibile da tutti quelli che continuano a spingere sul lato negativo delle questioni e che vi attaccano i loro pensieri negativi. Invece cercate quando vedete una cosa così di fare l'esercizio di stasera per azzerarne l'effetto e ritornare al pensiero positivo perché noi vogliamo creare una società ovviamente dove dove regna il pensiero, la crescita, l'espansione, la gioia, non certamente una società che viene, si rifugia dentro le sue paure. Quindi vi chiedo adesso se siete d'accordo di cominciare con me questa breve meditazione. Chiudiamo gli occhi insieme e facciamo un bel respiro profondo e fuori l'aria. Un altro bel respiro profondo e fuori l'aria. Adesso immaginiamo che ci sia un piccolo sole luminoso sopra la nostra testa che è la luce che proviene dalla nostra anima e che ci illumina completamente. Respiriamo profondamente questa luce e facciamola entrare dentro di noi in ogni cellula del nostro corpo con la respirazione. Inspiriamo luce e la mandiamo in ogni pato ma in ogni cellula del nostro corpo e quando espiriamo espiriamo tutte le nostre preoccupazioni, le nostre rabbie, le nostre paure, i nostri pensieri negativi. Immaginiamo di espirarli e dentro un tubicino che esce dalla nostra bocca e che va nella direzione di una bolla di vetro trasparente che pian piano si riempie con il fumo nero di tutte le nostre preoccupazioni, rabbie, soprattutto il giudizio verso gli altri. Ecco un'altra cosa molto importante da elaborare è quella di liberarci da qualsiasi tipo di giudizio. Nel momento in cui noi giudichiamo il governo per quello che fa, giudichiamo i medici per quello che dicono o non dicono, giudichiamo la situazione puntando il dito sul negativo non stiamo facendo il nostro lavoro di portare energia positiva. Quindi osserviamo senza giudicare e trasformiamo l'energia. Noi non lavoriamo per creare divisione ma lavoriamo per creare unità, per creare unione, per andare verso l'alto. Quindi anche tutti questi giudizi su quello che fanno gli altri quando sbagliano, buttiamoli tutti come fumo nero dentro questa bella bolla trasparente. Non è giudicando l'operato degli altri che alziamo la nostra vibrazione ma semplicemente alzando la nostra vibrazione e riempiendoci dell'amore più alto che possiamo. Buttiamo via quindi qualsiasi giudizio verso gli altri. Fuori fumo nero che riempie questa boccia nera. Chiediamo alla luce di pulire le nostre emozioni e di pulire i nostri pensieri. Adesso prendiamo nella nostra immaginazione questa bolla di vetro che abbiamo davanti a noi e colleghiamolo con un tubicino con un'altra bolla di vetro. Con la nostra immaginazione noi possiamo fare tutto e sappiamo che la nostra immaginazione è molto reale perché tutto ciò che noi possiamo immaginare sul piano quantico o spirituale. Lo stiamo anche facendo veramente e quindi è realtà. Allora questo fumo nero che è finito in questa prima bolla di vetro pian piano lo facciamo passare attraverso il tubicino e va a riempire la seconda bolla. In questo passaggio il fumo nero diventa luce bianca. Stiamo trasformando le nostre paure, le nostre emozioni negative, il nostro giudizio verso tutti in amore, in luce bianca, nella luce dell'amore. Facciamolo passare tutto questo fumo nero e svuotiamo lentamente questa bolla nera fino a quando ecco è completamente vuota e ora prendiamo con le mani la bolla di luce bianca che è nostra energia che usavamo in maniera sbagliata e che adesso è ritornata nella sua forma più pura ma ci appartiene e siccome ci appartiene la prendiamo, la mettiamo sopra la nostra testa e la facciamo esplodere. Ci facciamo una bella doccia con la nostra luce bianca che purifica il nostro corpo anche dall'esterno e ci laviamo, mandiamo via proprio con il gesto tutto quello che di negativo ci è rimasto attaccato. Respiriamo questa luce bellissima che è tutta nostra energia e siamo pieni di luce. Adesso immaginiamo di connetterci attraverso il nostro primo chakra che è il chakra della radice verso il centro della terra, facciamo uscire una luce bianca che dalla sedia va giù verso il pavimento e ci collega col centro della terra. Se volete potete visualizzare la rossa che è il colore del chakra e poi visualizziamo dal cima la nostra testa, dal settimo chakra, un raggio di luce bianchissima che ci collega con il cielo. Quando siamo in questa condizione meravigliosa in cui abbiamo lavato via tutte le nostre emozioni negative, siamo collegati con la nostra anima e siamo anche connessi con la sorgente o con Dio, con la divinità, siamo tutt'uno con il flusso dell'universo. Da questa posizione non esiste più l'odio, non esiste più la paura, non esistono emozioni negative, ma siamo connessi con il flusso e quindi possiamo contribuire alla crescita e all'evoluzione di tutte le altre persone oltre che alla nostra ovviamente. Da questa posizione di connessione totale possiamo aprire il nostro cuore ed emanare da qui un raggio di luce verde che è una luce di guarigione e di purificazione che possiamo inviare verso gli altri. Inoltre immaginiamo quindi una spirale che esce dal nostro cuore di colore verde che va verso l'esterno della stanza ed è il nostro amore, la nostra capacità di guarigione con l'amore che possiamo emettere verso l'ambiente esterno. E dal nostro terzo occhio che è qui sulla fronte, in mezzo alle sopracciglia, facciamo uscire una spirale di energia viola che è l'energia della trasformazione, è la luce viola che può trasformare. Immaginiamo adesso di camminare così per il mondo con il nostro cuore che emette questa spirale di luce verde e il nostro terzo chakra che emette una spirale di luce viola. Immaginiamo di essere un grande gruppo di persone, tutti nella stessa condizione, ci prendiamo per mano in un grande giro tondo e mettiamo al centro tutta la popolazione che possiamo immaginare. Possiamo immaginare la popolazione del nostro paese, possiamo immaginare tutta l'Italia, possiamo anche allargarci al mondo intero, possiamo vedere un mappamondo con tutta la popolazione del mondo intero. E in mezzo al nostro giro tondo, questo mappamondo che rappresenta il mondo intero, riceve la nostra luce, la nostra energia dal nostro cuore verde e dal nostro sesto chakra, qui in mezzo alla fronte, viola. Continuiamo a mandare questa energia verso il mondo e quella nuvola nera grande che lo avvolge e che rappresenta il campo del pensiero negativo che è stato creato, la facciamo dissolvere con la nostra energia. Immaginiamo come se queste nuvole nere sparissero per lasciare il posto a un grande sole che dall'alto illumina tutti noi ed illumina il mondo. Visualizzate con me la stessa cosa, noi che ci teniamo per mano e mettiamo un raggio verde dal nostro cuore e un raggio verde dal terzo occhio. Trasformiamo il mondo con il nostro amore. Stiamo ancora qualche secondo. Io vi ringrazio, sento un'energia potente. Ora possiamo sciogliere le nostre mani, ci possiamo abbracciare virtualmente, non c'è bisogno di stare a un metro di distanza sul piano dell'anima. Mi raccomando, rispettate tutte le norme che ci dicono, ma rifate questa meditazione, se volete, più volte, e fatela anche diretta alle persone care vostre. Se vedete qualcuno che ha uno stato emozionale negativo, potete farla da soli, indirizzandola semplicemente a un'unica persona. Vi ringrazio e vi saluto, grazie dei commenti, ora li leggerò e risponderò a tutti. Ciao!